Stanno facendo questa terapia con dei fermenti lattici per potenziare un po' quello che è la loro flora batterica intestinale, insomma, però non è che protegge da tutti i batteri, adesso bisognerebbe vedere bene quali sono, però per i batteri che ci sono in queste acque, questo è sufficiente, insomma. Non c'è una scelta, perché abbiamo bisogno di sviluppare in questo, abbiamo bisogno di sviluppare in un anno in questo, oi tutti dicono che non vengono all'Olympia? Penso che come un attelatore puoi fare ciò che puoi per limitare problemi, se sei se sei malato da acqua di acqua durante la rata, non è un problema, sei solo che sei malato dopo la rata, e quello che hai cercato di minimizzare è la malata durante la rata, quindi non spendere troppo tempo in prima volta, se sei preoccupato, e prendere precauzioni, come sicuramente che sei clean e tutto questo tipo di cose, ma io credo che sono sicuramente no straniero a dirty water, penso che sono in questo modo più vero di questo, sinceramente. L'ultimo settembre, abbiamo avuto 4 punti di mesurazione qui dentro la rata, in Guanabara Bay, o Copacabana Beach, e in uno di questi 4 punti, l'unico più vicino alla fortale, la qualità non è così buona, questo normalmente succede uno o due giorni dopo un giorno di freddo, che è stato il caso di l'ultimo settembre. Normalmente il luogo che è da straniero, il luogo che è da straniero, il luogo di acqua, quindi abbiamo fatto un altro mesuramento due giorni, un giorno, e tutti i mesurazioni sono ok, sono verde, quindi possiamo assicurare il migliore scenario per gli atleti.